Allora la mia domanda, intanto saluto tutti, un abbraccio a tutti, una volta in uno dei collegamenti Gurudeva ha detto che Radarani va a Dhammadriya Soda ad imparare l'amore per Krishna Se può approfondire, oppure se mi ricordo male o sbagliato, non lo so, grazie Saying that one time I heard during one of the classes that you say that Radarani goes to Madariya Soda's house to learn how to love Krishna If I have understood correctly or maybe I'm wrong, what was that? Madariya Soda goes to Madariya Soda's house to cook for Krishna This is the main thing Because Madariya Soda gives so much love and she wants to receive that love Because Madariya Soda is full of love and so Radhika also wants to receive that love Why? Why? Two There are two things One is that Krishna is a lover, she knows very well how to love And one is a baby, she doesn't know that love So how to love a child, she doesn't know So she doesn't know how to love Krishna in her form of a child She only knows how to love Krishna Lover Lover If you see in the pastime of 5,000 years back Radhika is only loving to Krishna Radharani Radharani ama soltanto Krishna He says, you are my Lei dice, you are my So You stay with me or you go out, you are my But she has no idea of the child's love, the baby's love And this time Manjeri are the child of Radhika Because they know only Radhika Only one baby knows only Radhika how she will care, she has to learn this So This is the Behind this region was also there To how to learn Vasa Lila To give To her Babies Manjeri is only one pointed to Radhika They have no desire for any other place So this is the nature of the small child Manjeri is only focused on Radhika They have no attention to any other place Because this is the nature of a child or a child who is only focused on her mother So that way Where she will know this The best place to live Mother Jesus And Mother Jesus Is the best place To be very To 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 Happy To make happy To la casa di mamma Yashoda è anche il posto migliore dove Radhika può cucinare per Krishna può guardarlo, può servirlo può avere la sua associazione senza che venga su di là si allora glielo da Soda manda è chiaro molto chiaro se mi puoi tradurre quella parte del del fatto che lui impara come che Radharani andato da Madhya Soda impara come relazionare con le mangiarie è molto bella è molto chiara risolve tutto grazie un'esplanazione che Radhika actually goes una ragione che si va a Madhya Soda è a casa per la mangiare qual è la ragione Questo è il desiderio di Krishna che lui ha avuto di conoscere quali sono i sentimenti di Radhika, l'amore di Radhika. Lui aveva questo grande desiderio e pensava come mai lei mi ama così tanto? Come mai nonostante io abbia relazioni con tantissime gopi, con tantissime amiche, lei mi ama in questo modo incondizionato? E lei vuole soddisfare sempre i miei desideri. Questo è per via dell'amore. Quindi anche io voglio imparare il desiderio di Krishna che anche lui stesso vuole imparare quest'amore. E quindi Chetania è quella forma che si è manifestata, che è apparsa per poter compiere, soddisfare il desiderio di Krishna. Up to 5.000 anni fa, le scritture dicono che il Dio è pieno. Le sacre scritture che sono state scritte fino a 5.000 anni fa spiegano che l'obiettivo è Dio. E gli altri argomenti sono soggetto per poter raggiungere l'oggetto, ovvero l'obiettivo Dio. Gesù stesso dice, io sono il soggetto e mio padre è il mio oggetto. Noi possiamo vedere nella letteratura vedia come nello Shemadwaga. Shemadwaga non viene menzionato il nome di Radhika. Perché questa è la realtà. Ed è molto difficile cambiare questa idea. Però non tutti sanno e non tutti vogliono sapere qual è il desiderio di Krishna. Io voglio sapere la conoscenza che lo riguarda, ma non voglio sapere qual è la scienza che serve per poterlo conoscere realmente. Prabhupada dice che la conoscenza significa conoscere che c'è Dio, chi è e gli argomenti, le qualità che lo riguardano, che gli appartengono. E questo è definito Ghyana. Ma noi dobbiamo situarci nel Vigyana. E questa Vigyana sarebbe la scienza. E queste realizzazioni possono solo venire attraverso la relazione. In una vita reale, se hai una relazione senza leggere i libri, sai tutto su quella persona. Possiamo vedere qui nel mondo materiale che quando tu sei relazionato con una persona, non hai bisogno di nessun libro per dire che lo conosci realmente. Perché dato che ne sei relazionato, lo conosci molto più profondamente rispetto a un libro, con le informazioni che lo riguardano. No, non hai bisogno di nessun libro, non hai bisogno di nessun libro, non hai bisogno di nessun libro. No, non ho bisogno di nessun libro. No, non ho bisogno di nessun libro. Non ho bisogno di nessun libro. Ok. Ho una richiesta che coloro che non accendono il video, allora è meglio che uscire dalla classe perché non mi fa sentire bene vedere lo schermo e tutti questi loghi senza persone, senza video. Mi sembra una cosa molto impersonale. Quindi chi non c'è il video, per favore, può uscire, altrimenti se può rimanere, accendete il video. Se non hai bisogno di nessun libro, io sono una persona sicka, io ti dico il tempo per realizzare, per sentire, e non hai bisogno di nessun libro. E non ho bisogno di nessun libro che non c'è il tempo per poter capire e realizzare insieme qualcosa. se però voi non avete tempo da dedicare allora uscite non è una filosofia che ascoltate in braille bisogna rilasciare con questo capisci? se non rilasci non lo capisci non è una filosofia la quale uno basta che se la immagazzina dentro il cervello nella mente è una cosa che si deve trasmettere e per la trasmissione è necessario lo scambio personale io prendo come riferimento un argomento ben preciso e cerco di andare in profondità in quell'argomento non è che parlo di molte molte cose quello che cerco di fare è quello di capire qual è la scienza per conoscere il divino so what we are talking about yes jnana and vijan if you have no desire for vijana you want to know only the informations knowledge of god and the details of the god's creation that is that is different and i want to say to read that line again repeat can you give sri madbara can you give sri madbara blue or light blue light blue yeah i will read it but vijana means to go deep inside the first yeah introduction interaction 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 yeah yeah this also you can read forward forward preface What is the underline? The ideals of spiritual communism according to Srimad Bhagavatam are based more or less on the oneness of the entire human society, of the entire energy of living beings. Disparity in human society is due to lack of principles in a godless civilization. This ultimate source is explained rationally and authoritatively in the beautiful Bhagavatam or Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam is the transcendental science not only for knowing the ultimate source of creator. What he creates, everything I have to know. We are busy to find out this. We are very committed to knowing what is the creation that the Lord has created. Prabhupada, what is it? But also for knowing our relation with Him. It means if you have no relation, you will never know anyone. That person you cannot know. If one is not related to a person, you cannot really know that person. It is impossible. It is impossible. to acknowledge. Perfect. That is the science. So that one is sure to become a God realized soul. A God realized soul. Soul is realized with his relation. I don't realize my soul. I don't realize my God. I don't realize the relation is between. I want to realize many things in the creation. But this is zero. What will happen? God has to realize. Why God will realize when my soul will realize. Soul make you to realize God. When will God be able to realize God only when I will first realize my soul? Right or not? Agree or not? Yes. Agree. 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 Thank you. Yeah. Then one thing more. We have to know this one. Yeah. The conception of God and the conception of Absolute Truth. The conception of God and the conception of Absolute Truth are not on the same level. You see? Prabhupada. These are the words of Prabhupada. The conception of the Absolute Truth are not on the same level. And Chaitanya Shri Tamrita starts. Adilila forget to. The object is Radhika. Nella Chaitanya Shri Tamrita, nel quarto capitolo dell'Adilila, viene spiegato che l'oggetto della nostra pratica è Radhika. And Krishna becomes subject to learn from Radhika. E Krishna diventa invece il soggetto per imparare da Radhika. So they are not in same level. Quindi anche qui similmente viene spiegato come loro non sono sullo stesso livello. In Shri Mat Bhagavata. Because God is object. Nello Shri Mat Bhagavatam vediamo che Dio viene sempre spiegato che è l'oggetto. And absolute truth is a subject. And Chaitanya Shri Tamrita, Mentre nella Chaitanya Shri Tamrita vediamo che l'oggetto è la verità assoluta. What is absolute truth? What you find it in loving way in this scripture? What is the beauty? What catch my heart? That is sunam bonam. Highest what touch to me. Right. Cos'è questa verità assoluta? E' quell'aspetto amorevole che possiamo trovare in qualsiasi scrittura. E' quell'aspetto che può prendere a chiunque di noi. E viene definito sumum bonam. Il sumo bene. La cosa più elevata. Perchè Prabhupada nell'introduzione dello Shri Mat Bhagavatam scrive molto a riguardo della Chaitanya Shri Tamrita? Perchè? Perchè? It should be Krishna's pastime or Radha Krishna Samrila. Why he mentioned Chaitanya Shri Tamrita. Lui dovrebbe fare un'introduzione che in realtà riguarda soltanto i passatempi che vengono descritti nel Bhagavatam come i passatempi di Krishna. Perchè invece scrive riguardo alla Chaitanya Shri Tamrita? Perchè adesso lui vuole parlare a riguardo della verità assoluta. Mentre prima menzionava soltanto il controllore, ma adesso vuole spiegare cos'è questa verità assoluta. Grazie. Grazie. The Srimad Bhagavatam hits on the target of the Absolute Truth. See? Hit of the target of Absolute Truth. This is Srimad Bhagavatam. Lo Srimad Bhagavatam… Making only target, not controller. Only to Absolute Truth. Lo Srimad Bhagavatam colpisce il bersaglio della verità assoluta. Non il bersaglio del controllore, ma soltanto quello della verità assoluta. E in realtà non aggiungo niente. Quello che faccio è soltanto spiegare, rivelare quali sono, parola per parola, quello che le grandi anime ci vogliono dire. Se noi vogliamo credere in Prabhupada, allora dobbiamo credere in queste parole. Go on. The Conception of God indicates the controller, you see. Controller. What of them? I also want to control. And this system goes like controller, controller, controller. And ego comes fighting, fighting, fighting. We go more in material circumstances. La concezione di Dio indica il controllore. Questa natura di controllore in realtà ce l'abbiamo anche noi, perché vogliamo vedere Dio soltanto nella sua forma di controllore. E quindi cerchiamo di controllare, 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 soltanto che da parte nostra questo controllo viene fatto esclusivamente dal falso ego e ci ritroviamo sempre a combattere nella nostra vita. Perché, honestly, there is nothing in our control. Sorry. Honestly, there is nothing in our control. We think that we control something, everything, but it's a foolishness. All control by control, real control. Noi pensiamo nella nostra vita che controlliamo tante cose, ma in realtà non c'è niente che è sotto il nostro controllo. That is my false ego, who make me confused. E' soltanto il falso ego che ci fa credere che noi siamo i controllori di qualcosa e, di conseguenza, ci confonde. Right. Ok, thank you. Ok, the conception of God indicates the controller. Whereas the conception of the Absolute Truth indicates the Summon Bono. Yeah, this is your word. What is meaning? Explain this. Summon Bono è una parola che arriva da voi, dal latino. Per favore, spiegatemi cosa significa. Latino, you explain this. Summon Bono vuol dire la cosa più alta, per esempio la cima di una montagna, e Bonum è il bene. Summon means the most elevated things, like the peak of a mountain, and Bonum means the good. So the highest wealth. This is Italian power. The best thing. This is the potenza degli Italiani. You see, mention, read more. Summon Bonum, after. It indicates the Summon Bonum, or the ultimate source of all energies. All energies. Not controller. All energies. E questo Summon Bonum, quindi la sorgente di tutte le energie, non è il controllore. Si viene. Si viene. And if you want to know about energy, you have to read Srimad Bhagavad, 1050. Bhagavad Gita. In Krishna, what energy is there? That energy. That energy. That is Sri Radhika. And Krishna cannot understand himself without her energy. You alone know yourself by your own potencies. Potenza, energy is the same. Yeah. Potenza, energy is the same. Si, Radha. Si, Radha. If I don't understand this energy, I don't understand Krishna even. Se io non comprendo questa energia, allora non posso comprendere Krishna. sono due sole in un corpo e due sole in due sole in due body loro sono simultaneamente due anime in un corpo e due corpi un'anima anche in purport il Supreme Lord Krishna può essere conosciuto per persone che sono in relazione con lui per l'interrata di servizio non vedo non vedo senza relazione non c'è modo la scienza significa essere relazionati percorrere la via della scienza per conoscere significa essere relazionati però noi non lo vogliamo fare ed è quello che Prabhupada ci dice di fare you know why not the teachers say this because if they say that you have a relation with Krishna or Radha and you start practicing then you will not bother any other thing then you have a mission you got the mission and you start doing that mission means to what to do that is the mission that is the life mission that is my mission in realtà questa scienza è la nostra missione missione cosa significa fare fare per un obiettivo e questa missione deve essere la missione della nostra vita if I have an institution mission then I will never say this secret se io voglio che l'istituzione sia la tua missione allora non ti revererò mai questi segreti perché 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 then they will lose you perché altrimenti ti perderò ma chi è sincero con te they will show your mission they will show your reason of living and reason of devotion of your life this is the reason you are to become devotee and you have to practice this way you will show your mission in your life because you have become devotee and so you have to fix this mission in your life and practice it in this way you like daddy? you like daddy? it's okay perfect perfect that is the our life has to be mission yes we divide you are lucky that you are Radha Dasi because you accept Chaitanya Mahaprabhu and if you are little covered then you will believe in Krishna is also good luck when you understand Chaitanya you will become Radha Dasi and you not understand Chaitanya then you will become Krishna Dasi but that way you will not get the chance what Radha Dasis are taking this is the special gift of Chaitanya Mahaprabhu for this period 500 period devotees to be a Radha Dasi and to be a spiritually enlightened that you go again immediately after leaving this body in the service of Radha how you do practice why you are thinking you will do after old age now it starts now yeah every day getting closer this is the mercy of Chaitanya and your mercy no no my no I am in the version of other mercy I am always navigating nothing nothing I am not nothing useless I am navigating unqualified person only I talk I do nothing honestly yes I repeat for myself that I do this practice honest to be a to understand myself I am not one to teach anyone but I want to teach myself perfect there is no difference of opinion about the personal future of God as the controller because a controller cannot be impersonal wow so he is a personal but we are impersonal he is a personal but he is waiting to come close but we are so impersonal we don't want to go close if I become personal relation then I will not pray to give something to me so to to give and take Amazon keeping she is impersonal is better I can change the company when I not give service good service to me this is the God concept the control is personal we are in reality we are impersonal why we don't want to enter in personal because enter in personal means completely renders and affidats to him while we are in personal we can maintain the relationship from Amazon that order something if order to do parts maybe that company doesn't the coffee in time maybe we change and remain in an state impersonal sorry I have only 15 minutes 15 minutes I will say these are the important points and these days I am really radhara sudhanedi radhara sudhanedi first is all for chaitanya anandas power my god this maha prabho my god so beautifully clear to me I cannot believe in the krishna is there covered with radhara bhao and covering the feeling of radhika and color of radhika this is the krishna don't take it means when I go to my spiritual master I take the mood of gurudev then we become disciples if I have different mood like gurudev mood is not there I am not a student mood comes like that these are the key that we have to practice in our life these days we read the first verse about the chitania maha prabho it is explained how chitania maha prabho is krishna the who has taken the sentiment of radhika and is also covered with the color with the carnage of radhika what means that he became a disciple of radhika similarly a disciple who wants to become real disciple of guru must take refuge in guru and take mood of guru and have also to recover with that energy of guru if one does take the mood of guru then cannot define that he is a disciple so disciple has to be different identity than guru than duvet then exchange can come so that is krishna becomes a student of radhika means radhika's manjari krishna diventa uno studente di radhika che cosa significa che diventa una manjari di radhika and one is a lover one is a manjari and he is teaching us this is the best way that you also become manjari of radhika and i will request if you have any enlightenment you read this first explanation of radha rasana wow i'm three days already reading that and i'm going deep and deep in that rasa because this rasa is one paragraph radhika manjari's and krishna radhika manjari and krishna all three are coming and going this past that is suram guram that happening is suram guru it's never happened to me before honestly vi do un consiglio se volete ricevere dei grandi chiarimenti a riguardo di cetania allora leggete e rileggete il primo verso del radar sussudani della spiegazione che fa Nandadas Babaji noi lo stiamo leggendo da tre giorni e stiamo andando molto in profondità nella spiegazione di questo primo verso perché lì viene definito di come questi traspetti Krishna Rada e Maggiari sono presenti in cetania mavru e sono come un passatempo che si svolge che cambia continuamente come un divertimento che si manifesta e da sempre delle nuove rivelazioni e una giornata che si stai 6 30 20 30 30 30 mavru 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 Ascora, Sundara, altri, tutti, tutti, tutti sono giocati. E loro stanno partendo. Sto ascoltando. E questo partendo è così bello. Wow! Non può venire a me. Stanno partendo. Wow! Tanti devoti, cioè Gora Sundara, Uddhava, e fanno loro la lezione. Yenanda, Yenanda, tutti. Sedanda, Mahatma, Mahatma, Salseri. È sorpreso. Tutti quanti condividono. Io non dico niente. Sto lì zitto che ascolto e tutti gli altri condividono. Ed è una cosa sorprendente. Anche Mahatma ha iniziato a condividere. e sono volto essere fatto. Siamo rimasti cinque minuti. Ci sono altre domande? Ringrazio per le risposte. Molte grazie. Adela. Grazie. 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 Grazie Gurudev Grazie Gurudev Voglio dire che Vamsi Prabhu Vamsi Ragunathas Ragunathji ha lasciato il corpo ieri a Radakunde E sembra che oggi dovrebbe avvenire la chiamazione ai funerali Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti